Sì, a settembre... Io dico che bisogna darci una regolata affinché ci sia rispetto. E vedi, tutti parlano che i nuovi stagli aiuteranno il tutto. Io non ne so così convinto. Non credo che soltanto lo staglio di proprietà farà affinire i casino. Come meno la tessera. Come meno la tessera. Se uno fa casino, non fa casino. E non si permette ai tifosi veri, quelli che amano la squadra, quelli che danno il supporto, quelli che magari non si comprano un maglione per poter venire in trasferta, non si dà la possibilità di farli venire. Che poi ci siano degli scammati di tutti i colori che non andrebbero fatti ad entrare. Ma è un altro discorso. E' un altro discorso. Tutti i problemi che non succedono negli Stati. Ma fuori, come in inglese terra. Per cui, il tifoso, noi viviamo con il tifoso. Il tifoso vive con la propria squadra. Non dandogli questo, gli togliamo qualcosa. Avevo letto, ho conosciuto il questore di Roma, che credo che abbia parlato. E' chiaro, cercando di trovare un punto d'incontro, io mi auguro che ci riesca, perché è troppo importante. E' vitale, non è importante, è vitale.